Grazie della linea TG Wild, oggi siamo in collegamento da Pamplona, Spagna, come potete notare dalla mia maglietta, per uno scoop veramente incredibile. Come avrete notato, settimana scorsa, venerdì scorso, ero rasato, ma in una sola settimana mi è cresciuta la barba di ben 4 mesi. Ebbene, siamo qui a capire il perché di questo incredibile fenomeno con il miglior dottore del mondo. È con noi il dottor Jorge Pincio Moruno. Buonasera dottore, mi sa dare una spiegazione del perché in una sola settimana mi cresce la barba di ben 4 mesi? No. Una risposta davvero incredibile. Qui da Pamplona è tutto, a te la linea TG Wild. Il fuoco è giusto? No. Proprio un... C'è un atteggiato sul... C'è... Ok. C'è come se cerchi di dare... Super sobrio. No. Macchina partita, macchina arrivata. Ciak. Mi sa dare una spiegazione? No. Dai, fai dai coglioni. No. No. C'è... No.